Mascia e Orso. Le emozioni. Che tristezza! La tristezza, si sa, è quell'emozione che porta con sé tanta preoccupazione. Ma grazie ai consigli di Mascia, vedrai, in musi lunghi, in sorrisi, trasformerai. Magari volevi giocare all'aperto, ma scende la pioggia e il cielo è coperto. Tu copriti bene, indossa il cappello e per non bagnarti apri l'ombrello. Succede talvolta di sentirsi soli e volere qualcuno che ci consoli. Chiedi un abbraccio ai veri amici, è così che si torna pimpanti e felici. Mamma e papà, non ti hanno comprato il nuovo pupazzo che hai sempre sognato? Non fare i capricci, non è una sventura. Con i giochi di sempre andrai all'avventura. È facile darsi alla disperazione con un brutto voto nell'interrogazione. Ma non temere, puoi recuperare. Impegnati tanto e vai a ripassare. Può capitare che un amico vivace proponga un gioco che non ti piace. Non rabbuiarti e non stare in disparte. Accetta la sfida e il divertimento riparte. Dire addio quando c'è una partenza può essere proprio una sofferenza. Tu di arrivederci, è un saluto migliore. Ti darà speranza e ti scalderà il cuore. La tristezza sai, ha una pigra compagna. Noia è il suo nome e sapessi che lagna. Ma tu per scacciarla ricorri all'ingegno, fai un gioco, un giretto o un gran bel disegno. Mascia è triste e indispettita perché ha perso la partita. Orso però ha la soluzione. Una rivincita e un nuovo campione. Se ti manca un amico lontano, non devi prendere l'aeroplano. Usa il telefono, fai una chiamata e la malinconia è già passata. Una regola d'oro da non dimenticare, anche l'umore nero si può illuminare. C'è sempre un rimedio per la tristezza, un bell'abbraccio o una dolce carezza. Fine